anche quest'anno siamo in attesa del salvatore che liberatore guaritore protettore non siamo in attesa del dio che adesso sta andando di moda auguro a tutti un buon natale un felice anno nuovo che il salvatore per intercessione della madonna guarisca liberi protegga converta tutti noi tutti i nostri familiari e in particolare tutti i partecipanti ai nostri gruppi di preghiera e quelli che sono iscritti ai nostri canali nel porgervi i miei più sentiti auguri di un santo natale di un sereno anno nuovo colgo l'occasione per ringraziare quanti hanno ascoltato e spero anche cantato i miei canti preghiera presenti nel mio canale e devo dire che gli ascolti hanno superato i 58 mila la nostra armata di preghiera inizierà l'anno 2022 con il nostro incontro di preghiera del primo sabato del mese dove con il nuovo canto preghiera da me composto e dedicato alla madonna omaggeremo la madre di dio e madre nostra auguro a tutti coloro che ci seguono un natale ricco di gioia di pace ed amore che gesù il nostro bambino ci recchi in dono tutte le grazie di cui abbiamo bisogno vi auguro anche un felice anno nuovo a tutti un buon natale e un felice anno nuovo che il signore benedica e protegga tutta l'armata di preghiera e ringrazio inoltre tutte le persone che mi ricordano nelle loro preghiere grazie a tutti